Sergio Palombizzi, oggi un appuntamento importante, presentate questo campus per l'edilizia, un'occasione di formazione per le maestranze, di che cosa si tratta? Oggi inauguriamo il centro training per quanto riguarda la formazione degli operai e le funi di livellazione, cioè c'è una palestra che abbiamo attrezzato, attrezzata per quanto riguarda la formazione e insieme con il confinamento degli ambienti. Questo è un centro fatto insieme alla Congo di Lucca, che è il primo nel centro d'Italia, quindi noi abbiamo l'onore e l'onore di aver fatto questo centro e di inaugurarlo oggi. Un'occasione di formazione, anche il frutto di un'esperienza della ricostruzione del territorio aquilano, sicuramente. Anche il frutto dell'esperienza della ricostruzione, perché la formazione in elevazione per le funi in alto serve anche per il restauro dei fabbricati ambientali, perché quando dobbiamo mettere un gaggio, dobbiamo mettere un chiodo, è molto particolare e anche questa è un'esperienza che dobbiamo fare, dobbiamo formare gli operai e proviamo a fare questo lavoro.